Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati. Sui social della coppia sono comparse le prime foto della cerimonia che si è svolta a Roma, alla presenza della loro famiglia, degli amici più intimi e naturalmente di Paola, la figlia che hanno in comune e che ha fatto da Damigella al loro amore. Che ogni tua promessa sia la mia in salute e in malattia, c'è già tutto ciò che vuoi davanti a noi. È il post condiviso da Laura Pausini a poche ore dal matrimonio, sigillando la data del 22 marzo 2023. Non disturbare, scriveva nelle storie su Instagram preparandosi al momento del sì che è avvenuto lontano dai riflettori. Hanno atteso a lungo, ma alla fine si sono detti sì. Paolo Carta e Laura Pausini si sono sposati nel 2023 ma hanno alle spalle una storia d'amore lunga 18 anni. Hanno iniziato a frequentarsi nel 2005 e ben presto la cantante ha parlato della scelta non semplice di passare la vita accanto a un uomo che aveva alle spalle un matrimonio e altri figli. Ho impiegato tantissimo ad accettare questo amore che invece era forte. Paolo l'ho preso con i suoi tre figli che allora avevano 12, 11 e 3 anni. Insieme nel 2012 sono diventati i genitori di Paola che oggi di anni ne ha 10 il loro amore non potrebbe essere più solido. Grazie a tutti. Grazie a tutti.